Ma la fuga dei giovani dal lavoro, specie stagionale, specie dopo il Covid, è una realtà sulle cui cause ancora ci si interroga, anche quando i contratti sono rispettati alla lettera. Per Confindustria il tema è il cosiddetto cuneo fiscale. Per le aziende il costo del lavoro è troppo alto e purtroppo per il collaboratore il netto è veramente troppo basso. Quindi questa forbice va assolutamente chiusa, in modo tale da valorizzare ancora di più le ore spese in azienda e al lavoro. Dunque pensare agli stranieri avrebbe senso? Probabilmente sì, solo dopo aver garantito tutte le sindacali, rispetto delle regole per tutti, e una reale convenienza a lavorare, a dare lavoro regolare, dice il presidente della Confindustria del settore alberghiero Marche Nord. Anche perché le imprese e le aziende, ancora più nel mondo del turismo, hanno proprio bisogno di personale, quindi non bisogna avere paura di superare uno straniero perché poi l'italiano scappa. No, sono due cose che devono andare di pari passo.